Attraversavo sul fer della sera in automobile la vasta landa di una regione pianeggiante, molto abitata e coltivatissima. Progredita. Ero solo. Progredita si dice una terra dove l'uomo non lascia in pace nemmeno un sol palmo di suolo. Le risaie verdigne s'avvicendavano coi frumenti maturi. Avevo appena accesi i fari quando, dopo uno svolto della strada, mi fermarono le sbarre di un passaggio a livello. Solitudine e silenzio, allo spegnere dei fari e del motore, furono ad un tratto severi, ombrosi, immensi e forse nemici. Un giuoco del terreno, un avvallamento impercettibile, non lasciavano scorgere abitati né case. La campagna appariva deserta e non c'era guardiano né dimora di guardiano. Colmi da stralipare i fossi dell'irrigazione, sommergevano i prati sotto un velo d'acqua crescente, che abbrividiva d'argento segreto e buio la sera. Frusciavano ad un fruscio più lieve di un tenero sospiro le acque, invadendo la ghiotta e marcita opulenza degli erbai. Qualche gorgoglio sommesso, che a tratti pareva un fuggiasco singulto di risa soffocate, veniva dalle paratoie elevate e dagli ingorghi delle chiaviche. Sopra un piccolo dosso, un macchione, più di rovi che d'alberi, era nero, selvatico, disabitato e tacito, come se non vi fossero uccelli di bel canto, ma solo i notturni maligni dallo strido malauguroso. Nel folto vi potevano abitare soltanto animali di specie malvace e ribrezzosa. Era come un roveto velenoso e maledetto. Dal buio del macchione sorse un grido strano inaudito, che esitò, quasi incerto, della propria natura prima di espandersi. Vi si sentiva l'ustolio fremente affannoso dei cani sulla traccia della selvaggina al fiuto. Vi si sentiva il loro appello, rabbioso e quasi disperato. Anche pareva l'ugiolio di quando abbaiano alla luna e si lamentano perché, si dice, hanno visto passare la morte. Ma non era voce di cane. Se si fosse potuto concedere in quel paese incivilito, la si sarebbe detta di lupo. Eppure, udendola, veniva un pensiero anche più strano e angustioso. Non credo ai fantasmi, ma talvolta se ne ha paura. Brividi mi aggricciavano, correndo con la fantasia a spettri di morti, a vesti infernali, a fantasmi di dannati e di diavoli, immaginando che quell'ululo sfigurato e snaturato adunasse nella tetra selvetta di rovi e di sterpi l'antica caccia selvaggia e le canne nere, lupigne, dagli occhi di fuoco, dell'inferno e del demonio. Si ripeteva e continuava. D'un tratto s'avvicinò ed apparve, nero, sul velo albicante della nebbiolina, un uomo, o la parvenza d'un uomo, leggero come un'ombra. Correva sugli arginelli quasi sommersi, nascosti dall'acqua e dall'erba, sicché sembrava che ponesse le piante sul buio delle acque e dei prati affogati. Uomo, o d'ombra d'uomo, bipede. Il suo andare, piegato a mezzo, pareva che volesse rifare il modo dei quadrupedi. Vedendolo venire verso di me, i capelli mi silizzavano in capo, e non più sol di paura, ma d'orrore. Diedi di piglio non so quale attrezzo per difendermi. Si fermò. Rizzò il muso a fiutare l'aria, con froge ardenti e bramose, come il lupo, quando la fame gli scava i visceri e i magri fianchi e gli arrota le zanne con feroce bramito, nella smania ad addentare gole calde e piene, a sgozzarle e saziarsi del sangue e delle carni. Poi fu nuovo ululato, più alto e più lungo, di squallida e disperata e veramente dannata ferocia bestiale, mista di paura e di odio. Ecco, riabbassò il muso, come se ponesse il naso sopra una traccia d'odore a pochi palmi da terra, e si mise ad aggirare la macchia dei rovi, veloce, con ululati brevi, frequenti, incalzanti. D'un tratto sorse silenzioso accanto all'automobile, in figura d'uomo comune, anzi, di povero uomo frusto, stanco, per così dire svuotato, e tanto dimesso e modesto nei suoi panni di campagnuolo, che il mio terrore sboccò in una risata nervosa. Sbadigliava, come si fosse destato allora allora, ma da un sonno di secoli. Avete sonno? Forse è fame, un resto di fame. Che c'entra la fame? Adesso lei non abbia più paura. Protestai contro l'impertinenza di suppormi spaventato e gli ingiunsi che mi dicesse piuttosto che razza di fantasia li avesse preso poco fa. Che fantasia? Di fare il lupo. Credi che non l'abbia capita? Non faccio. Divento lupo. A chi vuoi darla a bere? Perché? Perché? Che mi importa? E poi a che servirebbe? Mi succede. In certe notti come questa, e più spesso d'inverno, nelle notti lunghe di nevi di gelo, quando i lupi hanno fame. Oh, che fame! Di solito questo passaggio a livello è aperto, nessuno ci si ferma e non mi vede nessuno. Si chiama il dosso della maledizione di Dio. La selva allora era vasta. Erano grandi torme di porci selvatici che noi pastori conducevamo al pascolo a suono di corni. Era piena di covi. Il villaggio di Capanne stava proprio qui, sul dosso. Gli altri abitavano lontano, fuori dalla selva. Gli altri? Che altri? Gli uomini battezzati, i cristiani. Perché voi altri non eravate battezzati? Ma anche il nostro prete diventava lupo. E correvamo, orlando. Uscivamo di notte dalla selva nelle campagne. A volte assalivamo a pranchi le case ai villaggi. Più spesso ci mettevamo all'acquato. Vesti uomini, donne, bambini. Li portavamo nei covilli della selva alle nostre lupe e ai lupacchioli. Le sue parole esercitavano un fascino. D'altronde, sapevo che nell'età buie del più nero medioevo, al tempo delle follie epidemiche della magia nera e dei culti diabolici, fra le perversioni collettive, una fu pur quella dei licantropi, ovvero lupi mannari, duomini che per contagio di follia si credevano di diventare lupi. C'era in costui un atavico ritorno, una memoria ancora operante di tali fatti? Durò quello che poteva durare finché non s'avvidero di dove uscivano i lupi mannari e finché il terrore fu tanto che non s'azzardavano a inseguirli nella selva neanche per salvare, per vendicare i loro figliuoli. Poi lo sanno quelli qui sotto. Che vuol dire? Vuol dire le loro ossa. Con quelle del prete? Perché neanche lui scampò alla caccia. Si erano messi insieme in molti, molti. Avevano picche, spiedoni, coltellacci, raffi. Avevano fuoco e zolfo, scuri, asce per abbattere e sfoltire la macchia, bruciare i rovi, affumicare di zolfo le tane e i covi. Batterono la selva a ferre e a fuoco, ci tiravano con le frecce. Caricarono i morti e i feriti sulle spalle dei catturati vivi e fortunati quei morti, che non patirono il resto. Noi ci difendevamo da lupi con le unghie, le zanne, ma quando ci aprono raccolti tutti, vivi e morti, sulla cazzo del villaggio, tutti ci lasciò la natura lupesca. E ridiventammo uomini per chiedere un prete che ci desse i sacramenti. Ci risposero di farci assolvere e comunicare dal nostro prete lupo. I bambini, signore, i bambini erano stati presi vivi. E anche se noi eravamo lupi e lupesse, forse che non vogliono bene ai loro nati, anche le bestie salvatiche, chiusero le uscite. Le capanne erano secche, la morte a fuoco lente così crudele che molti la frettarono buttandosi nelle fiamme. Fu il rogo dei lupi mannari, e gli urli dello strazi erano tanto alti che andavano lontano quanto l'odore della carne bruciata portato dal vento. Poi le ceneri furono tutte ammonticate insieme, e il dosso ricevette il nome dei maledetti da Dio. Nessuno va più costruito. Un lupastro e una lupacchiola si erano salvati ficcandosi in un acquitrino. E tu credi di discendere da quei due? Come me ne ricorderai altrimenti? E come diventerai lupo? Se non fossi di quel sangue! Oh, so bene che se mi faccio cogliere, i carabinieri mi portano in manicomio, ma qui non si ferma mai nessuno, e pochi ci passano. D'altronde, se mi fossi avveduto poco fa che c'era un uomo a guardarmi, lei adesso non andrebbe a raccontarla. L'ore d'arguì, con una gravità d'accento e d'argomenti che a ripensarci mi pare ora perfettamente ridicola. Mi interruppe, mentre quello mi ascoltava infastidito e facendo crocchiare le giunture delle dita, mi interruppe un ululato, di voce più tenue e più chiara, ed intonazione per nulla feroce. E questo cos'è? Eh, mia moglie. Lupo anche lei. Ma chi? L'ultima di col sangue sono io, e non abbiamo figli voli. Questo disse con modi strani, d'orgoglio e di rammarico, come avrebbe potuto parlare l'ultimo di una stirpe rara, destinata a distinguersi. Era proprio una superbia gentilizia. L'ultimo lupo mannaro sono io. Meno male. Si strinse nelle spalle, riprendendo del tutto il suo fare di povero diavolo. Quando mi prende quella cosa, quella voglia, lei, mia moglie, mi lascia correre e urlare, ma sta con un randello alla guardia del polaio perché non le sgozi le galline. Ormai, signore, può raccontare anche questa che l'ultimo mannaro sa urlare soltanto, che sono un lupo da pollaio, io. Intanto la moglie continuava i suoi ululati bonari, come un'imitazione di quelli veri che avevo udito. E l'uomo mi spiegò che lei aveva imparato a urlare per dargli avviso che era ora di rincasare ed andare a letto. Insomma, era un ululato domestico, di richiamo, convenzionale. Le sbarre del passaggio erano alzate, forse già da un pezzo, e quando ebbi rimesso in moto il motore, alla luce dei fari riaccesi che illuminarono la strada confondendo e quasi celando la vastità del paese, non seppi più se fossi stato sveglio o se avessi fatto un sogno. Non lo so nemmeno adesso, ma se fu sogno lo ritengo generato non da notizie devi antichi perduti, da fresche esperienze contemporanee, dato che veri e propri licantropi o lupi mannari non ce n'è più. Ma non fu mai così vero come oggi il ben noto detto Omo, homini lupus. Abbiamo trasmesso l'ultimo licantropo di Riccardo Bacchelli. Hanno preso parte Werner di Donato Carlo Enrici. Coordinamento della produzione Marita Marangella. Tecnico del suono Maurizio Trevisan. Assistente alla regia Enrico Lantelme. Regia di Giancarlo Simoncelli. Programma realizzato dal Centro di Produzione di Torino della RAI.